Dove sei, Flash? Vieni ad affrontarmi! O sei come tutti gli altri e temi di affrontare la giustizia virale? Hai già recuperato la tua velocità? Ma è impossibile! Tempo fa feci un regalo a un amico. Rodron è pronto. Oggi lui ha ricambiato. Mi hai privato della mente di Grodd. Hai corrotto un altro nemico per usarlo contro di me. Perché continui a rovinarmi la vita, Flash? E questo non è niente. Aspetta di essere ad Iron Knight. No, non può finire così. Non lo permetterò. Non lo può finire. No, non l'abbiamo. No, non loופi. Grazie a tutti. Prima ti ho preso la velocità, ora mi prenderò la tua vita e giustizia sarà fatta. Scusa sorellina, ma è nostro. Solo noi sculacciamo Flash. E ora è giunta la fine. Ho annullato la tua velocità, vediamo di che pasta sei fatta. Fatti sotto, Daz. Non puoi battere te stessa, so tutto quello che farai prima ancora che tu lo faccia. Amica, sei solo me coi capelli fuori posto. E non devo batterti io, perché non sono sola. Flash! E stai giù. Bella mossa Flash. Scusa il ritardo. Non sei in ritardo. Bella è entrata in scena. Pensavo che voi tre foste i cattivi. Anche noi. Grazie. Quando vuoi. Beh, non... Quando vuole. Quando vuoi. E va bene quando vuoi. Allora Flash, prima volta a Central City. È sempre così folle. Beh... Oggi è mercoledì. Ovvero, la зовi. Sì. 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 Sì.